Ciao a tutti ragazzi, qui è Predator e oggi sono qui per farvi vedere un nuovo glitch su Nuketown Zombie Allora, come avete visto si sale sopra la casa, come? Allora uno si metterà dietro questo muretto con una Semtex guardando in basso, è importante avere la Semtex Mentre l'altro deve accoltellare attraverso la parete lo zombie, in questo modo finirà sopra la casa, come avete appena finito di vedere Allora, questo glitch vi permetto già che è difficile da fare, perciò non arrendetevi alle prime armi, ma continuate, cioè dovete continuare a persistere Perciò, scusatemi, vabbè vi stavo dicendo, questo glitch è anche un po' contro, ha dei pro e dei contro Perché è difficile, perché non ci sono munizioni, non le puoi raccogliere, da nessuna parte Quindi è raccomandabile, cioè vi consiglio, di avere tipo RPD, pistola a raggi, quelle altre armi lì, che abbiano tanti colpi e siano potenti In modo da non restare senza munizioni O a meno che non abbiate un vostro amico che ve li faccia fuori tutti lui E allora sarete messi bene E... Vabbè ragazzi, il video è finito, io ho detto tutto Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un mi piace E commentate E bella Ciao Ciao